Ciao bambini, sono Angela, mi trovo in un bosco di faggio nella riserva naturale Monte Gensana Alto Egizio e adesso vi porterò a scoprire i luoghi abitati dagli animali che avete scelto come vostri animali del cuore. Nel bosco di faggio vive l'orso Bruno Marsicano che è un orso molto speciale che vive soltanto nel centro Italia è un orso un po a rischio perché tanto tempo fa l'uomo lo ha cacciato e quindi lo ha messo in pericolo ma adesso questo animale sta tornando a popolare i nostri boschi e le montagne in uno spazio sempre più grande. Guardate qui a terra ci sono le foglie e anche i frutti del faggio sapete l'orso è ghiottissimo dei frutti del faggio che si chiamano fagiole non fagioli attenzione fagiole vengono prodotti in autunno ma siccome lo scorso anno c'è stata una produzione super anche quando si è svegliato dall'ibernazione in primavera ha trovato tanta abbondanza di cibo e ha potuto nutrirsi di questi ottimi semi per la sua alimentazione sapete a volte gli orsi comunicano attraverso segnali odorosi un po come se noi parlassimo anziché con le parole ma spruzzando profumi e facendo capire alle altre persone che cosa vogliamo dire molto difficile sarebbe invece per gli orsi un modo per comunicare che questo è il loro territorio è per esempio identificare alcuni alberi come questo e poi farsi una bella grattatina che è utile sia per un bel massaggio e sia per lasciare il mio odore su quest'albero in modo che quando passa un altro orso sa che questa è casa mia lo sapete che una volta in inverno ho trovato una cacca d'orso color rosso incredibile vero ebbene abbiamo scoperto guardandoci intorno che c'erano tanti cespugli come questo di rosa canina pieni ancora delle bacche rosse rosse e quindi l'orso ne aveva mangiate così tante che la sua cacca era diventata rossa questo è di nuovo un cespuglio di rosa canina sapete questo cespuglio fa dei fiori bellissimi ancora non sono usciti perché qui la primavera in montagna arriva tardi ma poi quando i fiori si trasformano in frutti le bacche di rosa canina diventano rosse e sono deliziose per molti animali se ne nutre la volpe molti uccelli uccelli che vivono di giorno soprattutto e poi se ne nutre anche l'orso la cosa bella è che queste bacche restano sulla pianta per tutto l'inverno e quindi diventano un aiuto alimentare durante un periodo molto difficile che è quello invernale dove di solito il cibo e natura scarseggia grazie a tutti